Il lunedì 4 marzo, buongiorno, il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulisi in apertura del nostro Tg del mattino. Parliamo delle primarie del Partito Democratico, si sono svolte ieri in tutta Italia con i seggi aperti a cura dei volontari. Ebbene, Nicola Zingaretti è stato eletto segretario nazionale del Partito Democratico, ovviamente seggi aperti anche nel Molise. Vittorino Facciolla è stato eletto segretario regionale del Partito Democratico. Sono andati oltre 7.500 voti, Michele Durante, l'altro, uno degli altri candidati, invece si è fermato sotto i 5.000 voti, mentre per Stefano Buono, l'altro candidato alla segreteria, circa 2.000 i voti, ottenuto ovviamente maggiori approfondimenti nelle nostre edizioni del telegiornale. La cronaca adesso con l'arresto avvenuto a Roccaravindola in provincia di Sernia di un pericoloso latitante internazionale. La polizia stradale lo ha fermato nei pressi di un centro commerciale. Si tratta di un uomo colpito da mandato di cattura internazionale di 37 anni, originario di Santa Maria Capoavetere. Era ricercato, si era rifugiato in Svizzera, poi appena rientrato in Italia è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di Sernia ed associato alle carceri del capoluogo Pentro. Cambiamo argomento, sono stati stanziati i fondi per la messa in sicurezza di Palazzo Vernucci a Guglionesi a rischio crollo dopo il terremoto dell'agosto scorso. 300.000 euro il finanziamento della Regione Molise nell'ambito dei fondi stanziati per l'emergenza. Sentiamo Manuela Iorio. Palazzo Vernucci a Guglionesi sarà finalmente messo in sicurezza. La conferma è arrivata da un accordo siglato qualche giorno fa tra il sindaco Mario Bellotti e il governatore Donato Toma che ha segnato il finanziamento nell'ambito dei fondi dell'emergenza terremoto dello scorso agosto. 300.000 euro i soldi necessari per sistemare l'edificio di Cinque Piani, già sgomberato qualche anno fa e la cui situazione è peggiorata con l'ultimo sciame sismico, costringendo anche a fare evacuare una quarantina di cittadini residenti a valle dell'edificio all'interno dell'ipotetico perimetro di Crollo. Residenti di via Iacobitti che hanno dovuto lasciare la propria casa nonostante non abbia subito alcun danno. L'intervento è stato deciso dopo una perizia affidata a Pietro Monaco, docente di tecniche della costruzione al Politecnico di Bari, che avrebbe dovuto decidere se abbattere il palazzone o metterlo in sicurezza con moderne tecniche di consolidamento. Per mesi sono state studiate le condizioni della struttura e la natura del terreno su cui è stato costruito, già di per sé franosa. È stato deciso che si può evitare l'abbattimento, che tra l'altro avrebbe avuto un costo intorno al mezzo milione di euro e a breve il Comune partirà con una gara pubblica con procedura d'urgenza per avviare i lavori nel minor tempo possibile. Verranno rinforzate le fondamenta e verrà consolidata la struttura, nell'ottica anche di un eventuale recupero futuro degli appartamenti evacuati e mai più utilizzati. E cambiamo argomento durante un incontro a Isernia. Si è parlato della figura dell'amministratore di sostegno. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. L'amministrazione di sostegno offre un aiuto concreto a quelle persone che per varie ragioni non possono difendersi da sole e che spesso possono trovarsi in difficoltà a causa di persone che vogliono approfittare della loro fragilità. Questo istituto si rivolge dunque a chi si trova nell'incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Non è un'interdizione, ma una valida alternativa che grazie alla sua elasticità rispetta e valorizza le residue e capacità di agire di una persona. Dell'amministrazione di sostegno e delle possibilità di migliorarla se ne è parlato Isernia durante un incontro organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e dall'Associazione Diritti in Movimento. Fra i relatori il professor Paolo Cendon, l'ideatore di questa legge. Ha tolto la solitudine e l'abbandono a tutte le persone che non sono in grado di basare da sole a se stesse. Prima erano sostanzialmente abbandonate, c'era solo l'interdizione per i casi limiti, se no c'era la solitudine, l'ostracismo, il nulla. Adesso invece c'è una legge che quando una persona non sta bene consente attraverso il giudice di nominargli un amministratore di sostegno, cioè una specie di segretario, di angelo custode che fa quelle cose che una persona riesce a fare, solo quella, senza infrangere la dignità e rispetto ai diritti fondamentali della persona. Quindi una legge protettiva senza essere invasiva e spropriatoria. A suo avviso è migliorabile? Sì, ci sono delle cose da fare, parecchie. Ha troppo successo questa legge, ormai i beneficiari sono mezzo milione e i tribunali non ce la fanno, sono al collasso. Bisogna che tutte le cittadine si rimbocchino le maniche, attraverso il sindaco soprattutto, l'assessore delle politiche sociali, le forze locali, le ASLA aiutino la giustizia ad andare avanti, se no si collassa. Certo è che la legge ha già centrato il suo obiettivo, sono sempre più numerose, infatti le persone che vi fanno ricorso, con risultati decisamente incoraggianti, ha sottolineato il magistrato Giuseppe Buffone. Ho portato dei risultati in punto di efficienza e soprattutto anche in punto di facilità del servizio, cioè con i protocolli è stato più facile per i cittadini rivolgersi anche al tribunale. Il vantaggio è che l'amministrazione di sostegno è come se fosse un ponte tra la disabilità e i diritti. Ad esempio consente a una persona che altrimenti non potrebbe vantare alcune situazioni giuridiche soggettive, che vuol dire diritti, di esercitarli. Vi faccio un caso che può essere molto banale, riscuotere un'eredità. Oppure ancora è capitato, sempre per vicende molto semplici, dolersi di attività di mobbing da parte di condomini. L'amministratore diventa il tuo guardiano personale. Ed è tutto per il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Partiamo dal web e dal giornale del molise.it. Come di consueto l'apertura è dedicata appunto alle primarie del Partito Democratico. Per quanto riguarda il Molise, Vittorino Facciolla, il nuovo segretario regionale della PID, netta la sua affermazione. E poi le altre notizie, il carnevale storico d'Italia di Larino, migliaia di presenze per la sfilata ieri dei carri allegorici. E poi Rocca Ramindola, lo abbiamo sentito nel Tg, colpito da mandato di cattura internazionale, latitante arrestato dalla polizia stradale. L'amministrazione di sostegno, una legge per sostenere e tutelare gli interessi delle persone più deboli. E poi altre notizie, se ne ha rischi sismici ed incendi boschivi, progetto transnazionale dell'Istituto San Giovanni Bosco, a seguire gli altri titoli del giornale del Molise.it. Uno sguardo anche ai quotidiani regionali in edicola. Partiamo come di consueto da primo piano Molise. L'apertura primarie vince Zingaretti in Molise, avanti Facciolla. Poi l'elezione, dopo i primi dati, è stata confermata poco più di un'ora dalla chiusura dei seggi, complimenti di Giacchetti e Martina, se tu il segretario, buona l'affluenza in regione, superata quota 10.000. L'ex assessore in vantaggio, ma durante in calza. Poi la partita si è chiusa nel modo di cui vi abbiamo riferito. Gli altri titoli, Boiano, 27enne in manette, picchia, un 58enne lo manda in ospedale, 45 giorni di prognosi. Numerosi gli eventi organizzati da Telmoli a Benafro, grande festa per il Carnevale, ovviamente anche in Molise. Ancora il punto di sesto, Battista Imbarazzante, è l'articolo che reca la firma del parlamentare del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico. E poi intervista al capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Greco Regionali, il Movimento è più vivo che mai. I titoli di sport, la sconfitta purtroppo del Campobasso, un vero disastro, perdono tutte le molisane, non solo il Campobasso dunque, a testa alta, solo l'Isernia per l'eccellenza, Roseto, Cinquina e Podio, Boiano, pareggio e rimpianti, crisi guglionesi, termoli ok, promozione poker trivento, tris capriatese, caltes di sangro sul velluto. E poi rugby, urlo Ammers con battipaglia, per i rosso-blu è primato solitario. Il quotidiano del Molise adesso, anche qui l'apertura è dedicata alle primarie del PD, il popolo democratico risponde presente, in quasi 12.000 si sono ricati a seggi in Molise per scegliere i segretari nazionale e regionale del partito. Sotto la testata, poi Campobasso, grande successo di pubblico per il ritorno del tradizionale carnevale in piazza Municipio. Si parla poi di LEA, livelli essenziali di assistenza e quinti di sanità, il Molise, fra le cinque peggiori regioni d'Italia. Decreto sicurezza, Federico replica alle dichiarazioni del sindaco di Campobasso e presidente della provincia di Campobasso, Antonio Battista. Per quanto riguarda lo sport, il calcio, follia Campobasso, da 2 a 0 a 2 a 3 in 12 minuti, Isernia, K.O. a Cesena, cade anche l'Agnone. Termoli batte con affanno, la FB plumatese mai big vanno via, la capratese risponde al baranello. Ancora per lo sport rugby, successo è primato in classifica, per gli Ammers che superano il battipaglia all'ex Romagnoli. E poi ci sono gli altri titoli, torniamo alla cronaca, Rocca Ravindola, la Polizia resta un latitante residente in Svizzera, trasporti, l'ATM taglia le fermate, lira dei pendolari. E poi si parla di lavoro, Fiat martedì riparte la trattativa, uno spazio anche, vedete, per il Carnevale di Larino, boom di presenze, per uno spettacolo unico, inoltre 10 mila per amminare le maestose opere di cartapesta, il sindaco Bucchetti dice, un patrimonio di tutto il territorio. Restiamo sui quotidiani telematici regionali, andando a vedere l'OMPEG e i titoli di futuro Molise, anche qui primare PD vince Zingaretti, ovviamente a livello nazionale, in Molise il nuovo segretario regionale è Vittorino Facciolla, centrodestra unito anche ad Isernia in vista delle elezioni provinciali del 24 marzo, ecco la lista insieme per la provincia. Primare PD concluse le operazioni di voto, buona l'affluenza in Molise, poi l'elezione di Facciolla abbiamo visto, e poi troppi ubriachi al bar, il questore chiude un locale di toro per 5 giorni. Le altre notizie suore il Vila, fra i 33 eroi d'Italia, la missionaria molisana riceverà l'onoreficenza da Mattarella, attrante dell'arte contemporanea De Agostini, per il Molise Antonio Corbo e Gino Marotta, e poi a seguire gli altri titoli di futuro Molise. Uno sguardo anche ai titoli di quotidiani nazionali, ovviamente c'è l'elezione di Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico, in evidenza su tutti i quotidiani, il Corriere della Sera, apre così primare PD la vittoria di Zingaretti, il neosegretario verso il 70% dei voti, sarò leader non capo, no alla cultura dell'odio, Gentiloni sarà il candidato alla presidenza del partito, Codeai Gazebo, 1,8 milioni in fila, si chiude l'era Renzi. E poi il ministro Orlanti porta a una tomba dentro il Vaticano, la famiglia chiede il mistero, chiedo scusa, Orlanti porta ad una tomba dentro il Vaticano, la famiglia chiede nuovi controlli. Dal Corriere della Sera vediamo la prima pagina di Repubblica, il PD ritrova la sua gente, Zingaretti è il nuovo leader, alle primarie 1,8 milioni di elettori, il segretario dice, convincerò i delusi. Titolo in evidenza su Repubblica, vediamo anche la stampa, stessa apertura, dedicata ovviamente allo stesso notizio, le primarie boom rilanciano il PD, quasi il 70% dei voti per Zingaretti, i delusi stanno tornando a casa, ha detto il nuovo segretario del Partito Democratico, e poi c'è il fondo di Federico Geremicca, l'opposizione ritrovata nei gazebo, oggi dunque sulla stampa, vediamo anche il sole 24 ore nell'edizione del lunedì, l'apertura, l'approfondimento è questo, la grande fuga, Italia senza medici, infermieri e prof. Sanità, ricambi difficili, a fronte di 52 mila uscite in 7 anni, nel 2025 mancheranno all'appello 16.500 specialisti, i 54 mila infermieri vacanti possono ora superare i 90 mila, per quanto riguarda invece la scuola, da settembre serviranno 140 mila supplenti per colmare le uscite di docenti già programmate e quelle di quota 100, oltre ai buchi di organico esistenti, davvero quindi un quadro non certo positivo, e intanto è corsa al reddito, che è quello ovviamente di cittadinanza, in quattro test verità. Da sole 24 ore, vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, anche qui l'apertura è sulle primarie del PD, si rivede il popolo PD e Zingaretti, cancella i renziani. Sotto la testata altre notizie, a sinistra si dileo al reddito, però finanziamolo con la patrimoniale. Per quanto riguarda invece i migranti, la mappa dello scalica barile fra i paesi europei e l'approfondimento del Fatto Quotidiano. Storia di copertina, Venezia Dio fra 80 anni, mezza Italia sommersa, e la seconda io pagato dai ventitori per recensire su Amazon. L'approfondimento di oggi sul Fatto Quotidiano, vediamo anche la prima pagina di Libero, Apertura invece di taglio diverso, stessa notizia, il PD muore, ma occupa la RAI, telecrazia rossa. Il popolo debba in coda per eleggere il segretario Zingaretti, l'uomo che porterà il partito indietro di vent'anni, nel paese sono minoranza, però in TV gli eredi di Renzi la fanno ancora da padroni, titola libero. E poi, imbarazzante spot all'uomo che ci oda, Fazio, Lecca, Macron, gli italiani pagano, Milacolo di Benetton, resuscita a 84 anni, grandi imprenditori sono pieni di risorse, secondo Libero, e poi Ezzogreggio sulla polemica col direttore, striscia a Mafeltri, con lui tutto risolto, dice il comico conduttore. Vediamo adesso anche il messaggero di Roma, Apertura sempre sulle primarie del PD, scossa Zingaretti, cambio il PD, dice il neosegretario, e poi Paletti all'autonomia, altro titolo in evidenza, Sidi, Conte e Camere, alla linea di Mattarella, Casellati e Fico, esame in Parlamento decisivo, il muro della Lega, la riforma non va ementata, e parliamo ovviamente del tema dell'autonomia differenziata delle regioni. vediamo adesso anche la prima pagina dell'altro quotidiano di Roma, Il Tempo, l'apertura è diversa, Valle della Niene, distrutta dai Roma, altro che riserva protetta, i nomadi hanno trasformato il parco nella loro bidonbili, immondizia, materassi vecchi elettrodomestici, e cumuli di Eternit a cielo aperto. Sotto la testata poi la lettera del notatore Manuel Bortuzzo alla fidanzata, il notatore ferito nel raid di Acilia, cadendo a terra, le dissi ti amo. Questo è scritto nella lettera e poi la cronaca, sorpasso killer marocchino, falcia famiglia, africano con precedenti, fa due morti. Vediamo adesso anche il quotidiano di Napoli, il mattino, apertura sul PD, la vittoria di Zingaretti, ora cambio il partito, dice il neo segretario, e poi c'è spazio ovviamente anche alla sconfitta interna del Napoli con la Juventus, Mere, espulsione decisiva, e bufera, Ancelotti attacca l'allenatore del Napoli che ingiustizia i titoli. In evidenza sul mattino di Napoli, vediamo anche la verità che sceglie questa notizia per aprire il giornale di oggi, gli sprechi dell'agenzia allo sviluppo, la cooperazione spende un miliardo fra hotel a Betlemme e Lupini del Perù, il personale dell'Aex costa 57 milioni, in due anni stanziati 290 mila euro a sostegno della filiera dei legumi, nella Cordigliere 720 mila euro per il summit sulla diaspora con l'amico della Chianghe e la figlia di Padoan approfondisce la verità. E poi patrocinio conteso per il Movimento 5 Stelle e la famiglia normale è uno scandalo, l'articolo a firma di Maurizio Belpietro, l'intervista di Fabio Fazio a Macron, Macron vuole l'asse con il colle, Fazio è il maggiordomo, titola la verità. Vediamo anche il secolo.it, l'apertura Islam, tranquillo, esiste un patto segreto con lo Stato per impedire attentati in Italia, questo il titolo interrogativo, e poi primo piano Meloni a Washington, elogio al patrottismo degli Stati Uniti, razzismo, Grillo dice no, è un fenomeno mediatico, lo sport a Roma e la Raggi, che disastro capitale. I titoli in evidenza sul secolo.it. Chiudiamo la rassegna dei quotidiani come di consueto con la Gazzetta dello Sport, apertura dedicata alla vittoria della Juventus al San Paolo di Napoli, Napoli battuto 2 a 1, bianconeri a più 16 punti sul Napoli che è appunto il secondo, ottavo scudetto blindato, ora a testa al Ciolo, il Ciolo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid per il ritorno di Champions. e poi derby lungo, Fragattuso e Spalletti torna Icardi, anzi no, Bale, e poi ancora si sblocca Belotti, Sirigu da record, Toro salto in alto, Cairo dice recuperati 3 punti all'Inter. 3 a 1 alla Fiorentina dell'Atalanta, Papu D'Aurlo, l'Atalanta vola, la dedica ad Astori, fa venire i brividi, un anno fa la scomparsa, purtroppo, del capitano della Fiorentina. Torniamo in studio per andare a vedere adesso insieme gli alias della redazione sportiva. Avezzano, Sant'Arcangelo 2 a 0, Castelfidardo, Iesina 0 a 2, Cesena Isernia 3 a 1, Matelica San Giustese 2 a 0, Montegiorgio Campobasso 3 a 2, Notaresco Francavilla 2 a 0, Olimpia Agnonese, Recanatese 0 a 3, Real Giulianova Savignanese 2 a 1, San Maurese Forlì 1 a 1, Vassese Pineto 0 a 1. Passiamo alla classifica. Cesena 72, Matelica 67, Notaresco 50, Pineto 48, Insieme alla Recanatese, Francavilla San Giustese 47, Montegiorgio 44, Savignanese 40, Campobasso 39, San Maurese 39, Iesina 36, Real Giulianova 34, Vassese 32, Avezzano 30, Sant'Arcangelo 28, Forlì Olimpia Agnonese, Isernia 27, Chiude il Castelfidardo con 18 punti. Il Campobasso perde 3 a 2 a San Giusto contro il Monte Giorgio, Gran primo tempo dei Rosso Blu che vanno in vantaggio per 2 a 0, il primo gol di Alessandro su assist di Cogliati, il secondo sempre dell'Argentino su calcio di rigore, rovinoso il secondo tempo del Campobasso che incassa tre gol in 12 minuti, al dodicesimo gol dalla distanza di Nasic per il Monte Giorgio, calcio di rigore che vale il pareggio per i locali da parte di Mancini, e al ventiquattresimo il gol del 3 a 2, un gran tiro dalla distanza da parte di Pellizzi, Monte Giorgio 3, Campobasso 2. Al decimo minuto Borrelli sblocca il risultato al Civitelle, al ventiquattresimo Pera dalla distanza raddoppia a calare il Tris, per la Recanatese ci pensa Sivilla al trentasettesimo, Recanatese batte Olimpia Nognese 3 a 0. Cesena e Isernia termina 3 a 1, ospiti in vantaggio al terzo minuto con Petitti che fa partire un destro potente, Isernia in vantaggio al Manuzzi di Cesena, trentunesimo punizione di Danilo Alessandro 1 a 1 per i padroni di casa. Al quarantesimo tiro rasoterra di Valeri Cesena in vantaggio, nella ripresa al minuto numero 37, Alessandro viene agganciato in area di rigore e penalty per i padroni di casa, è lo stesso Alessandro che va dagli 11 metri e chiude il match sul 3 a 1 per il Cesena. Acli, Campo di Pietra, Gambatese 6 a 1, Sesto Campano, Venafro 2 a 1, Treppini, Matese, Vasto Girardi 0 a 4, Frentania, Boiano 1 a 1, Pietra, Monte Corvino, Real Guionesi 1 a 0, Rocca Sicura, Alife 6 a 0, Roseto, Olimpia Riccia 5 a 0, Termoli, Matese 3 a 2. Passiamo alla classifica. Vasto Girardi 60, Boiano 48, Roseto 45, Venafro 42, Rocca Sicura 41, Sesto Campano 40, Termoli 37, Treppini, Matese 29, Real Guionesi 28, Acli, Campo di Pietra 27, Frentania 24, Pietra, Monte Corvino, Olimpia Riccia 23, Gambatese 21, Matese 16, chiude l'allife con meno 1. Finisce in parità fra la Frentania ed il Boiano 1 a 1, le reti nel primo tempo, in vantaggio al minuto numero 27, la Frentania con il gol, l'imbeccata di Vaglario per Cacchione, che scarica in rete il vantaggio di Pugliesi. Il pari del Boiano arriva al minuto numero 46, in pieno recupero del primo tempo, Scimò che costruisce sulla corsia di destra, palla in mezzo per il tiro di Turella, palla arriva a Diallo, che scarica sotto l'incrocio dei pali, il gol del pareggio 1 a 1. Passiamo alla classifica. Ed è tutto per il nostro Tg del mattino, con la rassegna stampa e gli highlights che avete appena visto, io vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 14 in diretta al telegiornale. Grazie e buona giornata.